Io già mi immagino dopo quello che è successo alla fine della partita tra Grecia e Bosnia di ieri sera tutti i giornalisti col blocchetto si sono menati, si sono menati forza mille articoli di calciomercato Dzeko va al Milan, Manolas torna all'Inter, si dividono, rottura totale, disastro per la Roma facciamoci subito gli articoli perché così almeno ampliamo già il casino che c'è sulla Roma attuale da parte dei giornalisti lo amplieremo ancora di più e sarà un casino che non finirà mai Allora, cosa è successo ieri alla fine della partita tra Grecia e Bosnia? L'attaccante e il difensore della Roma Edin Dzeko e Costas Manolas sono venuti alle mani praticamente hanno avuto diciamo un contatto fisico e sono comunque un po' scontrati quei classici scontri che spesso stanno nel calcio e poi sono stati separati comunque la situazione non è degenerata particolarmente anche se tra i tifosi so che ci sono stati diversi casini dopo quest'episodio subito il casino nervi tesi in casa Roma due giocatori si distruggono due giocatori si picchiano mamma mia ragazzo allora io capisco cercare di attirare la gente con certi titoli però cercate un minimo di essere coerenti con quello che dite allora io lo dico fin da subito questi sono episodi che non mi piace vedere non è che io sono contento di principio a vedere due giocatori di proprietà della Roma che si picchiano cioè si picchiano in modo molto esagerato però comunque vengono alle mani e hanno atteggiamenti un po' provocatori l'uno con l'altro però dal punto di vista della grinta e dell'agonismo è un gesto che io apprezzo per così dire cioè è una cosa che preferirei non vedere però comunque mi fa capire che sono giocatori che si impegnano tanto per la propria nazionale e in generale per giocare a calcio per fare la propria professione arrivando addirittura ad andare a muse duro con giocatori con la quale hanno giocato per tutto un anno ma io non la vedo come una cosa tragica come se Manolas volesse buttare via Dzeko perché non vuole stare più a Roma o Dzeko ha fatto la stessa cosa perché non vuole rimanere più a Roma dovete cercare di lasciare fuori i discorsi legati al mercato e legati al giocatore perché queste sono cose di campo sono episodi di campo che succedono continuamente succedono addirittura tra giocatori che stanno nella stessa squadra nello stesso momento nel senso accadono litigi in giocatori che si allenano nello stesso momento con la stessa squadra figuratevi quello che potrebbe succedere tra giocatori di due nazionalità diverse per quanto Dzeko e Manolas sono compagni di squadra da due anni sono comunque di nazionalità diversa e quando giocano contro è normale scaturire il momento in cui ti parte un po' la capoccia se così si può dire anche io quando ho giocato a calcetto con gli amici miei amici che io voglio bene dell'anima è capitato che durante la partita ci sono stati dei scontri verbali comunque mi sono arrabbiato ci siamo anche offesi perché sul campo certe cose possono succedere l'importante è che non hanno conseguenze dopo certo se domani Manolas dice io ho litigato con Dzeko perché lo odio non lo voglio più vedere voglio andare via da Roma eccetera eccetera allora il discorso cambia ma non penso proprio che sarà così perché sono due giocatori e due persone secondo me intelligenti e sono sicuro che dopo questo episodio c'è una riappacificazione mi ricordo anche che successe una cosa simile in un Chievo-Roma della stagione 2013-2014 ricordo che c'erano Benatia e Maicon che all'improvviso si urlarono in malo modo tipo Maicon mandò a cagare Benatia non si capì per quale motivo e Benatia disse stai calmo stai calmino oppure tanto tempo fa nel 2008 quando Doni e Panucci andarono veramente quasi alle mani dopo un errore di entrambi su un gol subito da parte di Di Natale ma sono cose che succedono non è che sono episodi che compromettono secondo me la permanenza di un giocatore all'interno di una squadra e se fosse così veramente avrei dei dubbi sulla maturità di questi due giocatori io era questo quello che volevo dirvi di non credere a tutto quello che diranno i giornalisti su questo episodio perché è stato un episodio di campo tra i due giocatori che si sono alterati sul campo è un episodio non bello da vedere perché sul campo non vuol dire che si può accettare tutto i calci bastonati o cose del genere perché non è questo quello che voglio intendere però è molto più comprensibile che ci siano discussioni sul campo dopo una partita o durante una partita piuttosto che fuori semplicemente questo quindi io non giustifico il loro comportamento non lo apprezzo però da una parte sono contento perché entrambi vuol dire che sono molto grintosi per la propria squadra però do un consiglio a quelli che guardano i miei video evitate di credere a tutte quelle fandonie come direbbe Padre Maronno incentrati su questo episodio perché secondo me è un episodio da prendere e da non indicarlo come punto di partenza per una possibile cessione da parte di uno dei due giocatori è un consiglio che vi do perché comunque qualche persona mi segue e io voglio inculcare a loro un mio pensiero anche se inculcarlo a tutti mi sembra un po' difficile ma io cerco di fare del mio meglio ci vediamo dopo per un altro video inelente al calciomercato un saluto e sempre Forza Roma ciao ragazzi grazie 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 grazie